Sono Franco Buffoni, al tempo della dolce vita. A differenza di muschi e licheni, la crioconite, quel sedimento oscuro visibile in estate sulla superficie dei ghiacciai, conserva a lungo la radioattività. Dai ghiacciai del caucaso all'arcipelago artico, passando per ciò che resta degli acciai delle Alpi, la crioconite custodisce in abnormi quantità il cesio 137, risalente all'86 cernobigliano, e persino gli isotopi di plutonio e americcio e il bismuto 207, riconducibili ai test nucleari effettuati in alta atmosfera al tempo della dolce vita. Come i polmoni degli ex fumatori ricordano anche ciò di cui il proprietario si è scordato, la crioconite surge a bestia coscienza del secolo breve. At the time of the dolce vita, unlike Moses and Lincoln's, crioconite, the dark sediment, visibile in summer on the surface of the glaciers, preserves radioactivity for a long time. From the glaciers of the Caucasus all to the Arctic archipelago, passing through what remains of the glaciers of the Alps, crioconite preserves, in abnormal quantities, cesium-137 dating back to Chernobyl, and even the isotopes of plutonium and americium and bismuto 207 traceable to nuclear tests carried out at high atmosphere at the time of the dolce vita. Like the lungs of exosmokers that also remember what their owner has forgotten, crioconite emerges as the best conscience of the short century. Poem number two. Le eruzioni d'acne di Eleonora d'Aquitania. Chi è stato l'ultimo che li ha sfogliati per ciò che erano? Si chiederebbe Larkin alla notizia che i libri di preghiere sono diventati dei breviari di impronte digitali. Virus, pestilenze, tragedie e carestie sacrono in biologico orizzonte dai codici miniati medievali. ottime per studiare la genetica dei ceppi animali, le pergamene, vergate su pelli di daino e di cervo, raccontano una storia di migrazioni e umani DNA, mutamenti climatici e infezioni virali, maneggiati, abbracciati, baciati da migliaia di persone, a secoli dalla loro creazione, i libri medievali sono un HD drive di monaci estrivali, nobile donne, poeti e cavalieri con gli stafilococchi, gli aurei nasali e i propioni bacteria di eruzioni d'acne di Abelardo e Eleonora d'Aquitania. a biologico horizon Centuries after their creation, medievali books are a hard disks of monks and scribes, noble women, poets and knights with the nasal staphylococci and the propioni bacteria from the acne eruptions of Abelard and the Eleonora d'Aquitania. Terza poesia Erbio e Disprosio Erbio e Disprosio, gli atomi sottoposti al grande gelo, sono da poco entrati nella tavola periodica degli elementi. Siamo arrivati a meno 273,15 gradi vicinissimi allo zero assoluto, si afferma con orgoglio al CNR. Le proprietà del liquido ad attrito zero si guadagnano solo ad opera del freddo, fanno eco severi dal mit. Ed io li ascolto con ammirazione. Anche la mia trachea è incuriosita. Erbio e Disprosio sono due ragazzi con un magnetismo molto forte. Tossiscono un po', poi vanno via, tornano cosmo e Damiano, e così sia. Erbio e Disprosio. Erbio e Disprosio, the atoms subjected to the great frost, have recently entered the periodic table of the elements. we got to minus 273,15 degrees, very close to absolute zero, the Italian Research Council proudly asserts. The properties of the zero-friction liquid are reached only through the workings of the cold, mid-tow icras, harshly. and I listen to them with admiration. My wine pipe, too, is curious. Erbio and Disprosio are two boys with very strong magnetism. They cough a little, then go away. They return as Cosmo and Damiano in their hands.